Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Vittorina, tanti auguri a te. Giornata straordinaria, memorabile per la provincia di Sondrio che oggi celebra la donna più longeva. Vittorina Nazari di Tirano, tra l'affetto dei suoi cari e degli amministratori locali, il sindaco Franco Spade, l'assessore Doriana Natta, ha spento 105 candeline, 105 anni e non sentirli per Vittorina, brillante, simpatica e con una memoria invidiabile. Qual è il segreto per arrivare a 105 anni così? Il lavoro! Il lavoro è nobilità! E poi mangiare anche poco? Io ho sempre lavorato, cominciavo a lavorare, andavo al dos con un angelo di mici, prima di scuola, e mi dava tre paga, mi dava tre paga. Per l'occasione, a nome dell'intera comunità, il sindaco di Tirano, Franco Spada, ha reso omaggio a Vittorina donandole un attestato che recita alla nostra cara concittadina, l'amministrazione comunale esprime i più sentiti auguri per questo importante traguardo. Un gesto di vicinanza e rispetto per tutti gli anziani, memoria del nostro passato e fondamento per costruire un futuro migliore. Anzi era una famiglia numerosa, era stata Andrea con due due figli. E il mangiare? No, frate, per fortuna, con i piedi di famiglia. Al tempo di lì Castegno, io ero Castegno. Ma veniva qua da scuola che era... Ma stava come questo. Una padella di braschecchi là e una sui là. E dice no.